Mancini, avversario tosto, lo abbiamo sgretolato, una grande Italia. Abbiamo fatto una buona partita, una buona partita anche nel primo tempo quando non si è riuscito a trovare il gol, sono stati bravissimi, la partita non era semplice perché era il debutto e perché loro sono un'ottima squadra. Non era facile, è servita maturità e autostima o dalla tecnica che abbiamo? Beh, in queste partite serve tutto, c'è stato l'aiuto del pubblico, molto, siamo felici e la squadra credo che abbia fatto veramente, abbia giocato veramente bene. È stato decisivo quando abbiamo cercato qualche uno contro uno in più a destra con Berardi. È stato decisivo quando abbiamo mostrato la palla veloce, siamo arrivati dalla parte opposta e che liberavamo sempre un uomo. Oggi l'Italia ha mandato un messaggio preciso anche a tutte le favorite dell'europeo. L'Italia ha fatto una bella partita, era importante iniziare bene qua a Roma e credo che sia una soddisfazione per tutti noi, per tutto il pubblico, per tutti gli italiani. Che cosa si interrà dentro, nel cuore di questa serata? È stata una bellissima serata, spero che ce ne siano tante altre così. Primo passo verso Wembley. È lungo ancora, ne mancano solo sei. Ne mancano sei, grazie a Roberto Maccini arriva Ciro Immobile. Grazie a tutti.